La bambina di Rottorio 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 Abbeggiata sopra le colline della morgia Fra l'ambasciun, Quercia e Foggia Mendoza pete e spina Ecca Cassane Che già esisteva tempo del Romano, perché la grotta antica attorno al paese è facile capire chiaro che il Cassanese, la sorella tomba, oggetti, tracce e piste, due millenni più prima di Cristo. Si respira un'aria finica che è quasi una carezza e si può arrivare a circa 50 metri d'altezza, dato che in delle giornate più chiare si poteva vedere un gargano e pure il mare. A 1928 sopra le colline di Cassanese per risolvere il problema antico di inondazione e frana fu creata la bella foresta mercadante, capa e alta montagna tra gli alue, fiori e piante. In un paese vecchio, la casa antica e le poteche, dell'artigiano e le cazzali che fattivano le lecce, avevano stati rimodernati, ma le strade strette e le scale, le torri e l'arcangide, ricordano un tempo medievale. Cassani e chiini di ville, nuove e antiche, creati con sangue, con sudore e la fatica. E in mezzo all'argo della minua e della ue ci adorano la natura, le vecchie massarine. La ricotta fresca, le provolini, le formaggio, alle domeniche, le bari si vanno all'armbaggio. E quando i cristiani si può convendere se ne vanno, poi vedendo la grotta, un ritratto della Madonna. Alla prima d'agosto c'è la festa grande, Santa Maria dell'Angelo, l'Uspare, la banda, e solo assai i turisti che si mescano alle Cassanese, vengono dal suo paese, che è l'ustezza del paradiso. Applausi Che Grazie a tutti